ok ragazzi buonasera siamo qui per un video molto atteso come vedete c'è lo sciicco che grippa nuovamente ha grippato per ben in teoria ha grippato per 3 milioni 539 mila 582 volte si esatto cos'altro dire abbiamo tante cose da dire in questo video quindi sarà abbastanza lungo quindi mettete subito mi piace sulla fiducia perché non vi deluderemo sicuramente allora beh intanto spiega che cosa dobbiamo fare in questo video intanto per prima cosa andremo a vedere le statistiche relative a questo filmato che ha fatto la storia del mio canale e non solo del mio canale poi andremo a leggere insieme i commenti e vi assicuro che ci saranno delle cose molto ignoranti molto interessanti di tutti i paesi sì esatto perché dovete sapere che ma poi lo vedete tra poco questo video è stato visto in tutto il mondo anche nello stato più impensabile che voi potete immaginare lì anche allora quindi passiamo subito alle statistiche direi no? esatto allora ok ci siamo perfetto quindi tempo di visualizzazione in minuti in minuti ok dopo poi spiegheremo se guardate qua i grafici vedete una cosa bruttissima qui 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 e ovunque in realtà qua sopra no perché comunque non influisce questa cosa comunque se vai sotto lo vedranno anche delle cose sotto guardate anche qua sotto piatto 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 e così via praticamente è morto poi vi spiegheremo il perché comunque andiamo a vedere è stato visto per cinque anni 122 giorni non sono considerato che è fuori da tre anni che è fuori dal 7 agosto del 2017 direi quindi sì sono due anni e mezzo esatto due anni e tre anni è stato visto per cinque e un quarto e 122 giorni esatto poi vabbè data media questo non importa perché il video comunque dura un momento e cinquanta sono sbagli quindi l'han guardato per i suoi tre quarti circa va bene ok visualizzazioni vabbè questo ve l'abbiamo già detto mi piace 10.838 non mi piace 2.117 va bene ok commenti aggiunti 294 condivisioni 3.894 quindi è stato condiviso abbastanza video delle playlist vuol dire che la gente sarebbe salvata in una playlist dove poteva play e non lasciava andare lo guardava sulla tv mentre mangiava le pop corn iscritti guadagnati da questo video 5.970 quindi le persone che guardavano il video subito dopo averlo guardato hanno detto questo canale merita perché spero che gritti ancora esatto poi andiamo a vedere qua sotto sesso sì sì 27% donna quindi devo dire che mi ha piaciuto anche alle donne diciamo c'è il suo perché insomma un quarto dello spettatore medio che si è molto brutto da sentire però esatto non ci stava un quarto della gente che l'ha guardato è una donna sì esatto un po' più di un quarto è una donna sì 2% di più allora andiamo a vedere adesso dove è stato guardato questo video ovviamente andiamo a cliccare e vediamo se ci apre qualcosa di meglio allora bellissimo planisfero ok beh ovviamente Italia tempo di soluzione Italia un anno 285 giorni comunque ricordiamo che erano 5 gli anni quindi ci sono 4 anni sparsi in città 4 anni sparsi in un mondo esatto ok quindi va bene allora aspetta che veniamo qua sotto allora qui con l'icefere allora Italia eh va bene il migliore di visualizzazione è in Italia dove sono le percentuali? fammi vedere ce ne vanno di fianco andiamo a metterla a posto ah già poi ecco qua 6% Italia va bene 8,1% Francia poi Spagna poi Polonia i polacchi sono appassionati di grip partner evidentemente sì i germani o tedeschi e già scendiamo sotto le 100.000 comunque in Brasile in Brasile piace i brasiliani piace grip partner pensavo ci fossero altre cose là comunque sempre di pistoni si parlano comunque pensavo si parlasse di barche che vanno ai 200 sui canali ma lì sono in Indonesia però forse più o più sud-est-asiato andiamo a vedere come si comportano Paesi Bassi Romania di Unito Algeria Iraq qui comincia il nostro cominciano da Marocco è solo nel paese loro Portogallo Bulgaria India Stati Uniti Grecia qua si stava un per cento qua si cominciano a scendere su comunque 26.000 visualizzazioni quindi comunque 26.000 persone l'han guardato si poi Finlandia e quant'è in Finlandia sono i 5 5 quindi 24.000 vabbè già morto i serbi anche come ho guardato Turchia Svezia Danimarca Indonesia ecco qui qui loro hanno i motoscaffi modificati turbolisti due tempi anche ok poi andiamo avanti 121 pagina ci sono quindi devo dire che l'han guardato ovunque mi cade subito all'occhio i mirati arabi uniti stranamente cade all'occhio allora Belge, Trassa, Tunisia riunione questi questi cos'è? zumba un po' vuoi qualcosa riunione cos'è riunione questi inquadra evidenzialo questi riunione andiamo a vedere dove si stava riunione cos'è accaduto? eh ho premuto io per vedere dove si stava riunione non ti vogliono vedere sulla mappa cos'è? riunione africa orientale golla come si stava a questo punto direi una cosa un maps veloce cerca riunione su maps perché qui qui bisogna non lo troverà mai non lo scrive aspetta riunione massonica oddio max paura ma dov'è? riunione comunque aveva fatto un po' di giri 26 no 6.000 tipo cos'è? che se avranno centramitanti ognuno l'ha guardato no aspetta adesso lo deve lo cerca ci deve pensare anche lui perché non è cioè non è in molti aspetta guarda sta ancora filmando più che altro si sta ancora filmando comunque mi sa che sarà un po' un vino non lo so impossibile togli il mouse va bene si parla tutto riunione guardiamo è un'isola è un bellissimo posto è bellissimo cioè è stupendo da lì si possono fare i tuffi esatto ci si può buttare dai ponti ma non ci sono ponti è tutto ah bene vicino alle maurissime allora si è Sudafrica peso questo qua ecco da dove hanno guardato i 5.000 probabilmente sono tutti quelli che ci sono ma danno saranno i turisti italiani mi sono andato a vederlo là bravi si dai i turisti italiani erano in vacanza mi sento triste sei il cuarabo questo posto fa schifo sei il cuarabo ok lasciamo l'aperto si che non si sa mai ok no no questo no questo servirà dopo questo è un topo l'Unione erano 16.000 16.000 persone Thailandia Bosnia tempo di evoluzione 21.000 sono tantissimi Bosnia Vietnam Russia Svizzera Israele Messico Arabia Saudita Emirati Egitto ci sta Malaysia bellissima la Malaysia c'è che va avanti allora metto un po' a caricare su Filippine Slovakia Chile Georgia Guadalupe bellissima Guadalupe Oman Albania Taiwan Uruguay Orlega Senna Dalletane Guadalupe non vedo se sei qualche stati ineranti perché qua sono avanti tantissimi ma un insus molto di meno molto di meno si vede che in riunione c'era più italiana probabilmente costa di meno Kuwait bellissimo Sudafrica Corea Paranguai Bahrain pesissimo Bahrain ci fanno anche il Gran Prezzo Nepal Peru Barbados l'isola Barbados è strafeso 66 66 persone a risale Barbados che devono avere tipo 15 abitanti quindi comunque l'ha guardato più uomo biorussi anche o può cominciare gli stati ignoranti Qatar raro il Salvatore Aruba cos'è cos'è meglio se andiamo a vedere Aruba Aruba non era un sito per pasta metterò forse questo eh sì eh sì Rancio cosa Rancio dove ci trovi Curaçao Venezuela ma guardate dove siamo finiti guarda Sud America qua pesissimo chiaro ci siano anche 16 persone in quel posto sono un'arca trafficanti comunque sì sì probabilmente durante le tratte non avevano niente da fare chiaramente Angola Guam Kenya Curaçao Sri Lanka Trindale cosa sono i carai di olandesi carai di olandesi meglio se ci guardiamo perché finita geografia carai di olandesi ci spostiamo direttamente nei paesi bassi aspetta però carai di normali perché non sono olandesi ah no ha fatto i paesi bassi niente no non ha capito facciamo finta di Tanzania Panama Guatemala Sri Lanka è bellissimo quello abbiamo finito ah no sono andato avanti troppo era giusto e quindi guarda un attimo non l'hanno guardato in Guatemala è l'unico stato che non hanno l'unico stato è l'unico stato visto al mondo mi stai dicendo come si permettono ma no è non disponibile però è nel D vuol dire che non hanno le statistiche si vede che è evitato è evitato è evitato statistica forse non hanno youtube non hanno internet ma vuoi che un turista italiano non l'abbia guardato là forse non non viene registrato nel paese non lo dicono forse maiotte cos'è maiotte meglio guardare un attimo con l'y no ma togli le indicazioni maiotte maiotte con l'y maiotte è un bellissimo posto bellissimo posto anche questo dove si trova non c'era ma ci vede che si vede che attorno a Madagascar ci devono essere molte grippate o la fibra dipende si è vero non so e tutti gli stati sono i primari che hanno adescare invece come era messo c'era però si come era messo era avanti è più grande scusami in Mozambico Zimbabue quindi se non è che abbiamo detto che non c'è in Guatemala in Guatemala non c'è guardaci no però aspetta perché secondo me sono troppo avanti ho beccato quello eh vedi Marino Hondura Silvano non abbiamo visto tutti questo era il 70-100 ma beh insomma comunque ok direi che qua ci siamo quello che voleva avrendere abbiamo avuto andiamo a leggere i commenti adesso io direi che si può fare non ci sotteniamo sul fatto di cosa è successo un attimo a questo ah giusto allora diciamo che le visualizzazioni sono salite in maniera vertiginosa nell'estate dopo un anno sì l'estate 2018 no da inizio 2018 circa dopo 8-9 mesi che l'abbiamo pubblicato è arrivato è arrivato in un giro di poco tempo a 3 milioni e 500 mila visualizzazioni un bel giorno un bel giorno vado a vedere viaggiava sulle 120 mila visualizzazioni a un mese quindi sono un grande po' era un bel un bel andare diciamo un bel giorno che è successo vado a vedere e vedo che le visualizzazioni visualizzazioni scusate erano ferme vado a vedere e c'era scritto il tuo video è stato segnalato per contenuto inappropriato non idoneo per gli annunci roba così subito tasto contestazione non è giusto cacchio dopo un anno e mezzo no due anni quello che era niente confermato hanno vinto uno e quindi adesso si aggira sulle 6 mila visualizzazioni è passato dalle 120 mila al mese quindi se dividiamo per 30 4 parale se dividiamo per 30 4 mila al giorno 4 mila al giorno alle circa 4 mila al mese 6 mila al mese quindi direi che è praticamente morto adesso appunto è 3 milioni e 536 mila sarà così da mesi 36 mila li ha fatti in 5 mesi prima li facevai 10-15 giorni e quindi ovviamente adesso non guardano più cioè a me lo guardano ma è una cosa un po' possiamo far vedere quella statistica del drop che ha fatto delle visualizzazioni eh sì andiamo a vedere qua indietro dopo passiamo ai commenti che sono esilaranti non c'è fatto il grafico espanso non aspetta devo tornare indietro per farlo indietro purtroppo ok allora le visualizzazioni ecco ecco guardate qua ha avuto quel piccolo al lancio quello che vedete qua sì ok 48 mila visual praticamente dopo una settimana perché lo è stato a vostro esatto poi l'ho scalato ovviamente è stato buono per un po' di tempo vediamo fino eh fino ad aprile 2018 poi è stato andassù di brutto poi è calato poi ha fatto un altro assurdo comunque cioè comunque era sempre 1.300 1.200 poi 7.000 al giorno qui comunque non era male esatto non era male fino ad arrivare a 200 al giorno come vedete qua basta il grafico è fermo è la 29 29 prima 2019 hanno detto basta 100 26 visualizzazioni il giorno prima invece non si riusciano a vedere il giorno prima praticamente 6-7.000 6.000 6.000 il giorno prima il giorno dopo 120 e da lì in poi basta fino ad oggi 190 200 300 190 120 cioè non arriva neanche più a mille visualizzazioni al giorno è decisamente morto come video purtroppo è andata così siamo molto dispiaciati ormai dovrebbe essere più di 5 milioni adesso forse anche di più secondo il 30 secondo il 30 doveva essere 5 milioni su quella 5 milioni vabbè comunque passiamo adesso ai commenti allora andiamo a zoomare al massimo no è capitato ancora ok allora andiamo cerchiamo di capire anche che cosa dice la gente perché non è non è sempre facile andiamo andiamo a vedere utilizzando anche quello che traduttore quello che traduttore nei casi quando serve soprattutto in qualche commento di una lingua un po' straniera che vedrete sicuramente noi alcuni alcuni li hanno guardati prima altri li vedremo per la prima volta o meglio li ho letti magari 3 anni fa ma 2 anni fa esattamente quindi lo scinico 2 punti no problema vado un minuto e prendo una kawasaki h2r e ritorno vabbè potrebbe avere un senso come no ma ok fai con la freccia fai con la freccia ci viene meglio non va aspetta aspetta ok e io muovo qua vabbè qui l'unico l'unico commento in mese che sta ricercando vabbè questo mi ha risposto gli altri ho scritto qualcosa io ho sentito la compressione lol ok io ho sentito la compressione ah io ho sentito la compressione c'era ancora la compressione è vero questo è un mio amico Luca Marano lo smutiamo l'espressione 0,45 cosa di etico e sappiamo quello ovviamente quando grippa mi rimango basito non c'è comunque non può essere altro che questa questa qua è veramente qualcosa di di triste va bene dai andiamo avanti perché ce ne sono veramente tantissimi sono un botto qua ci sono dei commenti però guarda il video nuovo perché ovviamente aaa si comprensibile perché no mettiamogli un cuore in diretta perché giusto così mi piace aaa appunto aaa leggi tutto aaa aaa ok si vuole anche per lui perché è giusto che occhio a questo da tradurre questo qua io l'avevo messo qua sulla fiducia non so cosa non ho messo muhamed sarà muhamed muhamed è molto probabilmente muhamed nome di persone muhamed bombarda l'inferno muhamed bombarda l'inferno non si sa perché era scritto muhamed bombarda ervet in kutia tendiamo a vuole dire che è in finlandese quindi questo è uno di cui pochi in finlandese che l'ha visto e ha anche messo questo e ha scritto un commento dedicato a muhamed ok 13 risposte però attenzione ho paura e qui anche questo direi finlandese mi chiedo se quelli sono nei guai tu chieditelo che poi te lo diremo cuore cuore ho già visto l'XD l'XD ok è milla o una è qualche filandese tra di voi si tappi le orecchie perché comunque non ha mai problemi nessun problema è vero è verissimo lo si è pieno di soldi è pieno di soldi quindi tappo vero tappo vero tappo vero ragazzi no no l'assassino cosa? uno potrebbe farci un libro questo è intraducibile non lo traduciamo questo prova prova provaci lo stesso uno si chiama Alan Kazatovich cioè cosa potrebbe aver detto no infatti togli l'acca con gli di cosi togli l'acca no intraducibile questo qua ragazzi non intraducibile oh io ho sentito dire da tipo il dulzors cascocicla 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 questo qua ho capito tutto 22e 22e no ma ci sarebbe eh c'è un onkojoku sanonu etatolla adatta adatta e ride quindi stiamo a vedere che cosa ha detto qualcuno ha detto che c'è un'emergenza cosa nessuno ha detto ma sta ancora filmando sì ma sta ancora filmando nessuno ha detto che c'è un'emergenza con due no ma dai vai vai questo 22e iii epic no ok mohamer cosa fai ti avevo detto di venire a servire il kebab non dirubare moto questo è il uvo grande dopo vede tu cosa faccio te io spacco schiema schiema e tu mi prendi in giro no 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 sì ok ok ah no beh la risposta era mia quindi ok fai il video quando mostri il pistone il cilindro se ti va non l'hai fatto ma non è andata ma poi comunque perché la campionata esatto la domanda per me resta una perché non ho una bella moto a marcia perché perché no ma io ce l'ho a marcia e allora una marcia e allora una marcia e allora una marcia e allora una marcia e ci risposte e allora gli squarci perché non sono cose di buone vai ma meno degli scooter perché per andare veloce con le moto a marcia e metti una marcia altra e poi andare anche ai bassi giri mentre gli scooter hanno un po' di più giri vabbè ok basta vabbè ok beh questo è vero si batte tutti vai avanti per qua non c'entri divertiti poi darti torto dove ti dice chi ti mette senso cosa cosa è girata la voce questo perché cosa ok salutiamo faratub tiger cise ok u gino bovino u piccoli cinghi piccole aspettative insomma avete smollato la candela ma sarebbe smollato forse sarebbe smollato ma poi non è vero non è vero eh attenzione questo è tre giorni fa peraltro tre giorni fa è vero è il lavoro più recente esatto questo è il più recente passiamo indossa un abito lo imbossi però non lo so non so cosa vedas pia maxi non so le qua chiudiamo intanto possiamo google maps non ci serve più è scritto ah è vero perché loro scrivono per la destra e per la sinistra giusto è una traduzione ma è possibile vedas sarebbe togli pia maxi brutto boom brutti a maxi la sua faccia un'idolo che sappiamo qua non so non è grippato gira ancora il pistone e non ha più compressione perché la candela si è smollata vero ma noi non lo sapevamo vero ma non lo sapevamo va bene questo un intratico questo cosa è francese è francese ma non lo so si tradurre cosa stai cercando sul lato haram o sul lato delle prestazioni commento successivo va via vai avanti un po' tu sembra fare perché il volume quando si sente va grippato si alza sono confuso quindi sono più confuso io esatto quello si sente quando è in coppia in maniera praticamente fermo quindi niente coppia niente suoni strani va bene attenzione vai qui subito qui abbiamo mettiti un cuore mettiti subito un cuoricino ok e poi andiamo a leggere ho scritto ali ali gravi 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 va bene that look when the motor goes and me dying ah quando il motore se ne è andato mi ha ucciso tipo ma così è vero grande ex salutiamo che sei davanti a mila come se c'è avevo orgoglio del tuo canale ma la targa ok bellissimi ricordi vent'anni fa anch'io avrei voluto lavorare di uno ricordo dei miei contiani lavoravano principalmente sotto lo scarabè ho scritto proprio così un po' un disprezzo anche il silenzio olio su candela no no olio su tela al massimo su candela perché mancava la candela no eh volevi bello bello vero avanti non credo con la targa scelata per quello scu ok perché no perché no scelto scelto ogni volta che si grippa è tragica è vero ha fatto una scorreggia e è morto qui quando ci sono qui l'ho fatto a profilo è inquietante molto inquietante non lo trovo scelto più figo che io non abbiamo mai visto lo so ragazzi è vero ma non traduzzi quella araba è il nome è il nome del tipo questo non possiamo traverlo ah è vero candela lenta eh sì a me sembri più un kamikaze che uno shake vabbè punti di vista vista è rimasto di ok candela lenta oggi si candela adesso no questa ho messo il like solo per il titolo è vero grazie ho messo il ricorre anche in tutto il momento traduzzi questa è la risata eh sì è vero quello lo so è vero che è sempre una volta sbagliata quello ragazzo quasi pisciato river non mi aspettavo spendo lo stesso con l'apriglia rest 150 polini insieme fuori la candela ok non so la rappata così tipo quante volte avrai già detto guarda il video nuovo guarda il video nuovo ah già visto ok non è confuso grippe dream config short frame big block ok possiamo provare ad adurlo ma non saprei no 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 lo scooter 50 ore di video peraltro che mi finisce la memoria lo scooter di base non molto ben regalato giustamente se lo fa a passione per il patto lo sbagliato è vero ok da qui si evince che il grippaggio è democratico non guarda in faccia nessuno nemmeno ha una scelta corretta bravo mongol 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 peggio di quando l'ho grippato io mi dispiace tremolo ok e questo quando quindi 8 mesi fa che peccato va bene 045 you wanted to the drill cool light your grip cosa te lo diciamo giusto perché sono un attimo confuso volevi farlo davvero bello mi piace la papilla guja guja traduciamo young gun tales in talis quello che è resto delle azioni cioè qui ragazzi sta ancora filmando sta ancora filmando ok ok grande sepastiano grande mdr so che è un'offesa mi sa che non fanno gli 80 no 85 forse agripado sicuramente si lamenti il camison qui con le scimmie anche con le scimmie anche il camison sci è in pasticcia sicuramente si è messo la camicia da notte con le scimmie tra l'altro il camison il camison mi fa starire first ma come no 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 ah epico ah griffata perché è ignorante tutto qua lo so è vero sì hanno una strada così bella e già in arabia hanno strada così belle di più molto più belle la parte migliore è 1,50 quando finisce il video no no che è questo simpaticone Lara Bernic e beh madonna non può capire queste cose la parte migliore è 1,50 due volte ah perché si vede ripetano giusto ah la candetta lenta il pistone gira ma non ha compressione perché la candela è lì ma non l'ha gestito prima ma avrà altro no dai scelgo di sto no questo guardate la faccia di questo mafioso oh miserosa 22 è cattivissimo si salì o la buia ah vabbè qui parla di compressione però vogliamo essere sicuri la candela si spense e hai perso tutta la compressione ok si spese si spese cosa è cos'è il grotto tipo F11 non lo so si no è diverso dal mio aspetta 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 no cos'è no 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 era tipo un F11 sembra una spiellata più che altro no invece no ciao bel pesce Paolo ti andrebbe andare a pescare di qualche cifre al cimèlicit al paldo boss ti andrebbe a pldo boss si andrebbe un po' ok la candela la candela russo russo barra tutte quelle liquidi giusto dai vediamo ucraino fu allagato fu allagato cioè il fu allagato Mattia Pascal ciao va beh quando non ho un video sulla mito va beh non si sa ah che faccia un po' un info come ti fa violare il filo del quante chilometri non ti si spese è vero non ti si spese non ti si spese no no cominciano i russi poi si vede che andava molto a domanda i russi in quel periodo forse non c'era così freddo la cintura è strappata la cintura va beh leipo leipo vediamo magari è una traduzione da notare la faccia del tipo molto si è molto cattivo panetteria se vediamo il numero ottanica ma va bene questa scurita ma quello che parlava Dami il marocchino ma l'altro era lucas ok io non conosco però va bene va bene Dami traduzilo perché è tipo scemo teoricamente ma in caso ma vachio c'è anche di like quindi forse vachio non metto su una fiducia ma dire qualcosa di peso costante 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 no che fai 145 mi piace cos'era guarda ok y nico win nico bv rei judo vabbè qua nico 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 il vestito intraducibile basta questo non sa che sia tipo thailandese questo qua questo qui ragazzi è epico è piuttosto bello tutto strano qui per scrivere è piuttosto bello comunque più o meno le nostre stesse le tue però ci mettono un quarto d'ora fa sicuro arono tuning tuning l'ho capito e nel contesto cosa vuol dire questo è ciò che significava la di accordatura la cosa tuning invece in ungherese chissà traduzzi tuning in ungherese per favore dai dai è nuovo ungherese mi sa a punto però si esatto è vero non perdiamo tempo gattilda linda questo è spagnolo bellissimo gattino non ci sono gatti ah studiare la roba piccaclasse anche questo non lo so dopo finlandese o non lo dirà francese anche roba stia di ah perché no perché no perché no probabilmente qua ha scritto una frase sicuramente intelligente vieni a vedere il francese ti mostrerà tutto il suo nipotino e non spezzerai nulla sta ancora a filmare sta ancora a filmare ok devo restire a finirlo buia camera e stand non sappiamo tutti cosa vuol dire ma lo traduziamo per voi compra invece un cammello invece del cilindro quindi l'ha capita l'ha capita lui sempre i veneti poi no non siamo veneti magari vicino ma no vabbè il nord soliti video preso per il futuro ma perché hai messo la cosa sulla targa tanto non ne trovi monte moto così di questo cover sì ehi no problema conosco un tipo azzizzi capace giusto ma l'ossi ok mi fiderò sicuramente bellissimo grazie per indossare un casco grazie per indossare un casco per indossare un casco candela ah boogie in che lingua lussemburghese no in francese lussemburghese e allora traduzilo da lussemburghese guardagli a me no no a scorrezzare anche questo deve essere bello sicuramente un commento molto pertinente breve ma intenso da croato è croato non lo so spero solo in levalinguoli croato ma perché cos'è? no è caduto lussemburghese no quando dice esploso a chi si riferiva? a chi ti riferivi? al cilindro al cilindro al cilindro tipico accento arabo si si Antonio Patti non traduci bene così dopo tanto finalmente è vero mannaggia mannaggia bello zippo uno schicco uno strano accento in un arabo troppo forte molto vicino scopo non apriamo ai suoi vigni se non si fa niente e grande vabbè te lo giuro sono morto e quando mi salto in faccia te lo ci impara a dove siete? mettiamo in ciao ciao biella no mi spiaggia e invece no ma qualsicco arabo questo è vero turco probabilmente è Milano alto questo questo deve essere miligno a me sembra la sgasata di un motocross rip rip 172 engine no ora metti un bel big bar 94 non esiste tra l'altro non c'è il big bar 94 comunque ho 17 risposte ecco come te l'ho detto fio macchè c'è che no no mi sa che vada di più ah mi sa che vada di più leggermente di 94 però quasi se la si litigano si no ok troppo buono attenzione altro commento pertinente vestito con un vestito e vi andare io starei vestigliando in tutte le lingue voi belli tranquillo grippato grande io guardo Willy in caratteristica ma gli stoppili sono un capolavoro eh ok lui da troll epico finito vive blu lol eh si ok spaccato esploso che tipo aspirato esploso lo lol lui l'ho fatto esplodere l'avete per caso lasciata la candela abbandonata ragazzi eh no il punto è saluto anche a me di esse youtube che mi segue sempre ah troppo divertente passate dal mercato di seguito no grazie e niente scherzando 3 milioni di views eh si 8 mesi fa si what is the lolly down hunter cosa lolly quanti anni hai lolly quindi sei tu lolly lolly ne ho 32 questo neymar comprare neymar ecco serio il catarpo a comprare neymar e ora guidare gli scooter ah ok va bene mister come ca ti vengono e salute ah si 170 litros di gasolina cosa suona come un 40 un 50 un 50 sembra un 50 ma stupido in spagnolo fané 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 lo sai per farlo traduziamolo fané da latino a fané va bene ah grande fame questo è il mio lungo ah fantastico ti mettiamo alcun cuore chebro pizza 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 ok vabbè questo non c'è bisogno di questa mi sa che c'è è camisolo ahahah ci ricordi ci ricordi ci ricordo qui abbiamo ho già visto un altro un Thai un Thai non accuma dappertutto eh non accuma dappertutto no no evidentemente no eh no se hai grippato evidentemente questo la cammella si è smollata una grande visualizzazione cos eh si ah no ho grippato Qui c'è una L molto potente. Cos'è? Non l'ho mai visto. Lo scoot arabo verrà spazzato via, così come se niente fosse. Che lingua è? Polacco. Ecco perché hai infiabili gli specchietti e non ti ferma la C. Sì, con le converse un po' strano, è vero. Vero, però si è adattato un attimo al clima. Sto ancora ridendo, poverino la faccia. Ma quindi noi adesso che lo leggiamo sto ancora ridendo, lui sta ancora ridendo? Penso di sì. Ok. Ma no, forse non aveva scritto, adesso magari non lo sto ancora ridendo. Comunque qua ci sono neanche 500 euro. Questo deve essere lunghissimo. Ok. Perché la candela sta volando fuori e gli idioti, senza idea, pensano ovviamente di averlo molto ridistrutto. Avrebbe preso la prima 500 euro per... Ok, va bene. Non capisco. It's originally iceware. Ok, va bene. Sì. Oh no, i grippati, ora andiamo a comprare una, tanto sono uno seicco. Ah. Questa è la filosofia. I think this is the spark plug. Ah sì, penso sia una candela, ok. Ma che grippati, il motore gira ancora se tengo solo lì che vogliono fare il viso. Questo ho. Ah, ho capito tutto. Che figa. Era ora. Grazie. Un milione. Grande. Fa. Per me un calabrese con una vestata. Ah niente, ce l'hanno con una vestata. Passate da me per il video delle moto. No. Pure a me, pure a me mi è successo una volta. Ok. La candela sicuramente si era levata dal carburatore. Così esce il caloratore. Va bene. E questo mi sa che finisca male. Spero che tu lo stringa in grande. Siete bravissimi. Attenzione. Come the zoom. Cosa ci vuole dire? Dirà questo. Dirà questo cosa? Dirà questo. Dirà questo. Moriremo senza sapere. Dirà questo. Vista. Vabbè questo. Ancora. Con la situazione che gli italiani. Grazie. Brava. Grazie. Ciao per me. Te notavo dal video che non faceva fumo in cucinetti di banca inchiodati. No. È un 70. No. No. Mi dispiace. Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? È italiano. È italiano. Vero. Scorreggia. Scolazzata. Lo silico romaniolo. Anche gli zip nel loro piccolo si rompono lì. Ok. Indre è il volto che mette. È ora che? Il cambiamento dello spostamento? Sì. Ci piace. Quanto fake si è? Sì. Infatti davvero veramente. Prendilata sarebbe bloccata. Non è vero. E poi effetto sonoro. Ma cosa? Non è un vero shake. Comunque. Click bike. Quanti cavalli hai? Hai il tuo zip? Comunque. Quanti cavalli? Sì. Quando hai amato gripata? Andiamo avanti un po' perché avete lasciato ripetamento? No. Ti hai visto passare la moto lavagna che avevo messo in ferrozzo lì. Che bello. Si è riuscita la cammina. Ah no. Like, iscritto e ricambio. Ti piace del video. Grazie. Se ne pensi uno zip con un bacco exegno? Sì. Hai fatto la maniera sera? Ho orecchio zero. Si sentiva che era schiavettato. Giù da quando allora mi usi in moto. Vabbè ho capito siete solo bravi a buttare sotto un buon cilindro e a colpi di... Mamma mia mi ha già passato la via. Comunque ho sbagliato. Tutto pure la cascita ho sbagliato. Va bene. Siamo ancora qui chiediamo scusa ma è finita l'ammare del telefono. No. Stato durando un pelo troppo. Anzi sta durando un pelo troppo. Erano rimati a c-c-c-c-c vero? Esatto. Ok mettiamogli il colicino. Ok. Ha sbellato secondo me. Sei gripping con le più storie. Ma il tuo rumore sapeva sbellato a coscienza di bar quando si senta di botto? Pfff. No. Vabbè ok. Il video è più bello di sì. Vero. È vero. Questo è vero. Si sa. Classico. Siete troppo matti. Il bello è le converse con il vestitino. Ah. Ok. Vediamo cosa vuol dire. Il primo tedesco che appare. L'avevamo già messo perché... Che mi dici di un fottuto lenzuolo? Libera interpretazione per questo messaggio. Ok. Alla. Boom. Cuore. Si è staccata la pipetta. Se ti prendevo con il mio 70 e nelle carri corse per me ti staccavo anche la tunica. Fatevi qualcosa sull'utore. E fermo. E fermo. Quindi ci sarà qualcuno che si chiama fermo. Questo. Oisko joren skob amita. Questo probabilmente finlandese da quelle parti. Lo skob di oisko joren. Non è niente. Che dire? Tu eri napoletano. Giori non è niente. Hai registrato il video della zona di Adria perché quel posto mi pare abbia già visto? No. No. Però mettiamolo il cuore. C'è una pistata grande. No. Questo non l'ho prestato. Che idiota. GG. Porca miseria. Io ho pure oltre per sentire più per la strada di ferma. Perché non mi si è stimato un po'. Troppo. No. Povero misto. No. Niente. Bravvi. Se elevata. Si. Si. Deve essere davvero uno scooter così bello. E potente. Però. Senza rovini. Non ti fermano. Ti accensione monti. Monti. In senso di premio. Esatto. Maiusco. Quindi. Si. Poi non ho scritto qualcos'altro sotto. Significa cambiare il cilindro ed essere costretti a cambiarla. Dipende. Si. Crepi il cilindro. Prendersela. No. L'idea è quella. Il pistone si blocca nel cilindro. A volte non si blocca avanti le parti. Allora. Mi pischero l'idea oggi. Chiedi. Quindi sicuramente sarà. Un nodo. Questo è troppo lungo. Solo a me sembrava mise. Forse è quello youtuber. Forse. Mette il bise. A scala. Ma sta filmando comunque. Si sta filmando. Oh. Motore freddo. Tantezza tavoletta. Numeri da circo. Che tanto mi fanno anche i pirati da cross. Qualche sgasata perché fa figo e le over che si grippa. Non era freddo. Il motore era buono. No. E poi non abbiamo grippato. Ma poi non abbiamo grippato. Quindi va bene. Riavita la cannella. Si. Questo è stato uno dei primi che diceva. Riavita la cannella. Adesso è bello bello ma riavita la cannella. E io ho detto. Ah si. Ah si. In effetti si è andata la cannella. Quindi grazie a qualcuno di voi. Grazie a Marco 1,2,3,4 che è il suo passaro. Esatto. La moto non è grippato. La moto non è grippato. Il pistone è giro. Però manca compressione. Probabilmente la cannella si è smollata. Cosa hai detto? Beh io ho giusto. Metti questa cannella là. Probabilmente tu hai letto tipo questo. Si. E hai detto. Anzi guardiamoci. Magari hai risposto. Si. Eh. Ok. Va bene. E se hai il lato non grippato. Se no la pedalina non girerebbe. All moon. All moon. All moon. Si. Avevi solo da non sgasare da freddo. Ma non era freddo. Non era freddo comunque. Cioè. L'ho girato fino a. Cinque ore prima. Cioè. C'è ancora. L'hai grippato perché non capisci quando arriva a secco. A secco cosa? Ci hai detto dalla cannella. Si. Grande Federico. Se era grippato la pedalina non andava giù. Ma non è vero. Non sapete niente ragazzi. C'è gente grippa senza bloccare tutto. No. Povera bestia. Ma per fortuna. Si è poi impresa. C'è un grande. Indipendita. No. Ma no. Perché? Mi piace. Fede. Cicco. Arabo. Ciolla. Anthony Gabriel. Xbox One. Fortnite. Qui ragazzi siamo a livelli. Esagerati qui. Qui ti è partito dalla cannella. Qui ti è partito dalla cannella. Qui io. Come se non ci capisci che è un. Vestito d'arva. Per lo sceiffo. No. Sarà un problema. Lo sceiffo. È un mix. Sceiffo. Tra un sacco di cose. Qualcuno ha scritto da cos'altro. Sceiffo. Punto di domanda. Sceicco. Mi sa che ti ha tirato in mezzo senza volerlo. Cosa? Non ho capito. No. Sono finiti. No. Sono finiti i commenti. No. Sono finiti. Più di 260 commenti. No. Sono finiti. Bene ragazzi. Finissi qui il video. 260 commenti letti praticamente tutti. E' un commento su 59. Totali con anche i tuoi. Ah ok. 260 effettivi. Tantissimi ragazzi. Avete commentato veramente in tanto. Grande. Un sacco di gianza in tutti questi commenti. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua. C'è solo uno sbrozzo. Vi ha letti tutti. Ed ecco che qua. Uhhh. Figliamola cosi t cioè. Lo guardiamo insieme per l'ultima volta. othylicoberiobbio. Chiaooo. Chiaoooooa יה mark buradan. There is a linea smash. E' che qui hai luvia? Ci fai milla qua dai. No no. Ho il drone. Scoglio! No no. Finisce così, finisce così, un saluto.